Annotazione giornalistica e serale. La signora Zecchi, presidente dell'Associazione Vittime della Banda della Uno Bianca, 24 morti, 102 feriti, 103 assalti, commentando durante una commemorazione ufficiale l'uscita dell'autobiografia di Eva Micula, che io ho curato, vuoto a perdere, verità nascoste sulla Banda della Uno Bianca, ha detto che Eva Micula avrebbe potuto parlare 30 anni fa. Eva Micula 30 anni fa era una ragazzina che non aveva ancora compiuto 16 anni, che era appena scappata dalle violenze domestiche e si era rifugiata a Budapest dove si manteneva facendo la cameriera in un ristorante. In realtà Eva Micula ha parlato, non 30 anni fa appunto, ma 27 anni fa, quando aveva circa 19 anni. Ha parlato tutta una notte in un commissariato di Rimini davanti a tre poliziotti e a tre magistrati, verbalizzando tutto quello che poi ha consentito di arrestare tutti i componenti della Uno Bianca. Soltanto questo, soltanto queste due annotazioni giornalistiche. 30 anni fa aveva 15 anni, 27 anni fa in realtà ha parlato e siccome ha parlato hanno arrestato tutti i componenti della Banda della Uno Bianca. Buonanotte.